Se il Covid ha abbassato la guardia, almeno così si spera, si parla ora di un'altra patologia, la dengue, trasmessa dalla zanzara tigre. Noi abbiamo interpellato il professor Paolo Fazzi, direttore dell'Unità Operativa Complessa Microbiologia e Virologia, chiedendogli alcune domande. Nessun allarmismo tiene a precisare, ma cautela. Dengue l'anno scorso ha dato dei casi autoctoni in Italia per via del fatto che in Italia c'è uno dei vettori di dengue, che sarebbe la zanzara tigre ed es albopictus. Ora, innanzitutto voglio precisare che non c'è stato nessun caso letale l'anno scorso, però è una patologia tropicale che talora può dare problemi. Il problema attuale è che in Brasile attualmente circola in maniera consistente, pare che i casi attesi siano aumentati di quattro volte. E quindi, visto e considerato che ci sono rapporti importanti con il Brasile, sia per motivi commerciali ma anche e soprattutto per motivi turistici, c'è una circolazione e ricircolazione di esseri umani che dal Brasile vengono in Italia, oppure di turisti italiani che vanno in Brasile e trascorrono un periodo più o meno lungo. Vengono praticamente punti dal vettore che trasmette l'infezione e poi ritornano in Italia. Nella stragrande maggioranza dei casi dengue nella prima infezione e risulta sintomatica addirittura nell'ordine del 50% dei casi. e poi c'è un congru numero di soggetti che ha una sindrome influenzale, quindi febbre alta, e poi c'è una percentuale molto bassa invece che si ammala, per la quale percentuale dei soggetti è richiesto anche ricordo. Il problema è soprattutto di carattere epidemiologico, perché un soggetto anche asintomatico alberga il virus nel sangue per circa 10 giorni, quindi ha una viremia di 10 giorni. Se in quel periodo viene punto dalla zanzara tire, quindi da Edes albopictus, la zanzara si infetta e di conseguenza andando a pungere un altro essere umano può trasmettere la malattia. Ora, perché non bisogna preoccuparsi più di tanto? Non bisogna preoccuparsi più di tanto perché d'estate si fanno delle campagne di disinfestazione degli insetti, in particolare arati, quindi delle zanzare. Gli ospedali, noi siamo stati allertati di questa possibilità, quindi siamo forniti di sistemi diagnostici. La possibilità che possa diventare endemica stabilmente in Italia non c'è. Perché? Perché il vettore circola solamente nei mesi caldi, quindi non potrà mai succedere quello che succede nei paesi tropicali dove il vettore è presente durante tutto l'anno. Intanto, ennesimo riconoscimento per il professor Fazzi, che è stato invitato a un importante convegno al Ministero della Salute a Roma il prossimo 21 maggio l'argomento di estrema attualità. Io faccio parte del direttivo dell'Associazione Microbiologi Clinici Italiani, quindi mi hanno invitato per questo motivo, in quanto io, nell'ambito di questa società scientifica, coordino proprio un gruppo di lavoro sulle antropozonosi, quindi sul nuovo approccio olistico della salute che è quella One Health, cioè un'unica salute umana ed animale. Si parlerà delle problematiche legate alla globalizzazione e all'aumento della temperatura della Terra, del globo terraqueo e con tutto ciò che ne deriva. Perché le antropozonosi sono molte e ogni anno ci sono dei salti di specie, ogni 3-4 anni ci può essere un salto di specie nella specie umana che può dare talora dei problemi. Certo, non come Covid, ci sono alcune patologie anche importanti talora per l'essere umano, ma che però riguardano solitamente poche persone. Però è naturale, questo è il mestiere nostro, noi dobbiamo conoscere anche queste problematiche per prevenirle. Ed è in questo convegno, si parlerà di questo anche al cospetto di politici, perché queste situazioni possono essere affrontate sì dal corpo dei sanitari, ma sono loro che intervengono con leggi, norme e regolamenti, affinché si possa perpetruare uno stato di benessere globale. È giusto che sia così, io stesso negli anni passati ho indetto dei convegni dove si è parlato di One Health, quest'anno ancora ne organizzerò almeno uno dove si parlerà di One Health e comunque nell'ambito della mia società sono il coordinatore di coloro che si occupano di queste problematiche vecchie e nuove in realtà. Grazie. Grazie.